ok ragazzi con l'audio vero fratella saluta è un po' monella lei eh fratella non ci potrei fare niente dai costruire noi ponte fratella lei a che aspettare eh eh a te eh a te dai non perdere tempo andiamo subito a isola attaccare verdi attaccare i verdi noi attacchiamo i verdi veloce prendi una tnt prendi una tnt prendi una tnt abdul abdul prendi tnt e noi con tnt cosa fare abdul ciao io stare nell'altro ponte io vado a attaccare vado a attaccare io te lo dico eh vai a attaccare fratella cacchio no 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 via per favore via stoppa che io faccio bomba fai bomba fai bomba veloce vieni in base dai 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 mamma mia no fratella fratella sono caduto fratella il blu arrivano eh ma i verdi eh i verdi eh cazzo oh cazzo ah i verdi vieni in base 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 allora io mentre io mentre fare ponte tu proteggere letto tu con la ponte io le dai fratella spicciati oh abdulate va abdulate i gialli proteggere letto dai veloce noi attaccare i gialli noi attaccare i gialli fratella fratella i gialli ci stanno attaccando fratella eh cammina ma qua se non proteggiamo letta qua non li ama e tu puoi proteggere letta fratella fratella veloce attaccare i gialli veloce veloce mamma mia mamma mia attaccare vai vai a attaccare buttati buttati cerca di arrivare sull'oro ponte come hai perso la tnt ho fatto abdulà tu sei vivo? si veloce veloce abdulà oh 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 usa shit veloce abdulà ha volato ha volato abdulà abdulà questo è il kill ve lo smazza amazza fratella siamo morti fratella piano parigi attivare piano parigi mamma mia prepara solo lana non proteggiamola non proteggiamola anzi l'ammazzo io hai visto l'oro dai fratella allora noi attaccare subito eh va subitina subitina dai dai prendi lana e tu fai incomincia a fare una prendi lana così me li porti per fare il ponte incomincia a fare andiamo subito andiamo subito ai diamanti e si dai 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 io faccio il legno no 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 tu prepara tnt pure cazzo sono caduto come sei caduta sono caduto fratella sono caduto fratella mi sta la ganta dai veloce tu farei punta mettiti a punta veloce ci stanno andando già i gli azzurri tranquilla li ammazza fratella no attento arrivano fratella arrivano fratella ritirata fratella tranquilla io li ammazza fratella attenta fratella fratella io sono morta fratella mi ammazza mi ammazza fratella 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 io li ammazza per te e sono morto applicare piano cernobil no qua piano no la salvo 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 fratella fratella ragazzi no dai sono rimasto solo fratella fratella non mi risponde vuol dire brutto segno oh fratella brutto pezzo di meta fratella fratella si io già avrei pensato che tu mi avrei tradito cacchio io no attaccare il blu noi attaccare il blu attaccare il blu fratella attaccare il blu fratella mi senti dov'è aspetta io ho spesso la lata e dai fai i blocchi fai i ponte aspetta tieni 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 ah faccio io dai io prendo le tnt oh tnt tnt mpl quanto costa ok tnt ok fratella com'è tua situa non lo sapere come non sapere sei arrivata eh non lo so ancora come non lo sa eh dimmela tu siamo arrivata siamo arrivata attenta ho finito il blu e blocca fratella fratella ci attaccano fratella fratella ci attaccano per colpa tua ho perso il dnt vai fratella attaccare butali salta salta no fratella ci stanno attaccano non fare niente non li ha ammazzata li ha ammazzata la cazzatura aspetta fratella non li ha io non sa io non sa come ha bombato attenta la bedula ha fatto boom sapo cacchio raga fratella fratella allora ragazzi io farei bubun ciao e farei budulla no dove sto andando solo da vivo eh no no che cosa come sei uscito dalla partita no allora io mi suicidare per la patria ahhhh o o ho i Cos'è un po' di paese